Piove ormai da tre giorni in Piemonte. Una pioggia battente, contima, che fa paura. Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, ha chiesto lo stato di calamità naturale per tutta la regione, devastata dalle precipitazioni che ingrossano i fiumi. L'ondata di Piena del Po è passata da Torino lasciando segni profondi. Il fiume è esondato ai murazzi, ma attualmente la situazione è sotto controllo. Sono stati riaperti, dopo una giornata intera di interruzione, due ponti sulla Dora. Il ponte Bologna, che collega via Bologna a corso 11 febbraio, e il ponte di Piazza Fontanesi, lungo Dora Voghera, zona della città che ieri destava grande preoccupazione. L'ultimo bollettino è diramato dalla regione.